Affirmato. Affirmato. È fuori e torna in Italia. Queste le parole di Joe Squillo alla notizia, appresa guardato il TG1, del ritorno in Italia di Cico Forti dopo 24 anni di detenzione in un carcere statunitense. Una gioia incontenibile quella della cantautrice che da tempo chiedeva il rimpatrio di Anche durante la sua partecipazione al grande fratello Vip, nel 2021, aveva lanciato messaggi affinché questo Anche durante la sua partecipazione al grande fratello Vip, nel 2021, aveva lanciato messaggi affinché questo Squillo aveva seguito lo sciopero della fame per ridare importanza politica e mediatica Il suo gesto non fu vano, infatti arrivò prima il comunicato ufficiale del Ministero degli Esteri e poi una lettera di Cico Indiriz Vicina all'alba, quando eravate in pochi Vicina all'alba, quando eravate in pochi Al tramonto sei ancora accanto a me, affiancata da milioni di... È tempo di osservare la luna, di chiederle un passaggio su quel carro immaginario che gli antichi egizi credevano riportasse un sole stanco alla stazione di Partè Cico ha sempre dichiarato di essere vittima di un errore giudiziario Cico ha sempre dichiarato di un post condiviso da Joe Squillo official page Chiocciola Joe sottolineatura Chiocciola Joe sottolineatura